Buongiorno, continuo a farmi filmati orrendi e dopo anche pubblicarli? Ti continuo a cascare? Hai visto che le si permette di cascare anche in tua assenza? E i capelli dove si vuole finire? I capelli? E ormai! Penso che ciò che ero le A8, le Max. Oggi per chiedere se sono mamma tua! Lo mazzo! Chi ti mazzi? Quella di Scala! Quella di Scala? Vabbè ormai sono cimicci o piccola di Scala! No, no, che mi ha chiesto se sei la mamma del Sartoro! Ah sì, te sa, questa devo scriversi, ragazzi! Vedi, vedi! Vedi la tua mamma? Vedi la mia che staglizzò o sono le più belle vede? Così? Così? No, sotto, la vita! Così? Sì! Le vite! Perché dove ho messo qua? Eh sì, dovevo caricare la batteria! Allora... Eh! Io lo so, mio figlio Michael, E ora... Ciao! Quegli altri lo conosci, sei in Cornelio! Cornelio! Lui è un collega di lavoro! Ciao! E scovazzo, dove sei? Sei venuto in cerca! E' buono, adesso sono venuto in cerca! E' già perso lui! Ho fatto solo due uscite su strada! Guarda, che avevi paura che ci arrivi e ti resti attaccati sui abici! No, ma non c'è problemi! Allora, ho detto... Consiglio a me come sei cazzo, guarda! Eh, ho detto... No, perché... Sta registrando! Ciao! Sta registrando? Sì! GoPro, fermati! Ferma registrazione! Ferma registrazione! Video replay! Ferma registrazione! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 no. Sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì.